La bocciatura del disegno di legge sui liberi consorsi da parte della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana manifesta una chiara scelta che distrugge, almeno per adesso, il sogno dei cittadini gelesi. Tutto rimane com'è. Coro unanime da parte della politica. Per il consigliere comunale indipendente Angela Maria Di Modica, pare chiaro che la Commissione ha interpretato con particolare attenzione la volontà di una parte della politica di voler mantenere lo status quo, impedendo di fatto l'evoluzione geopolitica del comprensorio, perché è evidente che la costituenda area metropolitana di Catania sposterebbe le assi del potere politico ed economico a favore di essa, garantendo l'alzeramento delle posizioni politiche ed economiche di vantaggio e la nuova distribuzione dei collegi elettorali. Fin dall'inizio, continua il consigliere comunale, i debuti gelesi erano contrari alla costituzione dell'area metropolitana di Catania e lo avevano già manifestato, ma è del tutto impopolare, se non anche imprudente, sul piano politico ed economico affossare la volontà popolare e del civico consesso. C'era la consapevolezza che si trattava di un passaggio irto di difficoltà e che la nuova legge si discostava, per alcuni aspetti, dal referendum, ma nonostante ciò, sebbene diversa, la voglia di cambiare radicalmente il volto della nostra città e di delineare nuove prospettive più vantaggiose per dare slancio allo sviluppo di Gela era stata accolta dal Consiglio Comunale nel rispetto della volontà popolare espressa nella votazione del referendum. Con motivazioni prive di fondamento giuridico viene calpestata una scelta democratica espressa da quattro comuni e dalle rispettive comunità. La politica e i cittadini sono sempre più distanti ed ancora una volta non si lavora per il bene comune perché siamo di fronte ad una politica non rivolta a tutti ma solo a pochi. Con questa azione si è tentato di mettere una pietra tombale su un progetto di rilancio e di sviluppo territoriale forse l'unica via d'uscita dalla crisi economica ed occupazionale. Una politica miope che non si accorge delle potenzialità straordinarie che avrebbe potuto avere la nostra città. Accostando Gela, città più evolute che ci anticipano in gradutoria sia in qualità della vita che in efficienza amministrativa per poter iniziare a guardare al futuro di sviluppo territoriale e sostenibile in un'ottica europea di pianificazione, progettualità e innovazione. Chiediamo coerenza a tutti i partiti e liste civiche che davanti alla città in Consiglio Comunale hanno dichiarato e votato sì, aggiunge il consigliere comunale indipendente Cristian Malluzzo. Non possiamo permettere ai rappresentanti regionali di calpestare per l'ennesima volta la volontà di noi consiglieri che a maggioranza abbiamo detto sì al passaggio con la città metropolitana di Catania. Siamo pronti e disposti a tutto pur di far valere la volontà dei 25.000 votanti che parteciparono al referendum. Bisogna mettere da parte gli interessi personali e pensare allo sviluppo economico del nostro territorio. Inoltre chiediamo alla prima commissione dell'Ars, formata a maggioranza da deputati del centro-sinistra, compreso il capogruppo del PD regionale, di allinearsi con la scelta del civico consesso di Gela.